ragazzi donald trump dichiara che la sua campagna elettorale accetterà le cripto cosa notiziona bomba ragazzi per il settore cripto naturalmente ma per tutte quelle persone che naturalmente smacchina con le cripto sono simpatizzanti delle cripto amano le cripto naturalmente daranno il loro voto a trump e fanno benissimo perché comunque sia che cosa è successo in un avviso del 21 maggio la campagna trump 2024 ha dichiarato di aver lanciato una pagina di raccolta fondi per le persone interessate a donare in cripto utilizzando il prodotto coin base commerce il sito web presentava i loghi di bitcoin ethereum dogecoin shiba ino xrp usd coin solana che cosa sta facendo dogecoin ragazzi questo è il grafico giornaliero abbiamo effettivamente rotto questa resistenza di cui vi parlavo giorni fa ragazzi dello 0,16 e 5 all'incirca naturalmente con la candela che si è formata il 20 maggio poi riconfermata anche il 21 maggio ok siamo all'interno di questa zona qui ragazzi cosa invece per quanto riguarda shiba che diciamo che si è trovata più o meno sulla stessa situazione ma dopo andremo a vedere comunque sia diciamo che dogecoin in sostanza sul giornaliero ha fatto questo movimento qui quindi siamo in queste zone qui ragazzi dopo una dopo quasi una settimana di prezzo in consolidazione in congelamento comunque sia in anche per un fattore accumulativo di accumulazione possiamo dirlo e poi esploso naturalmente andando a generare questi gain dal minimo di qualche giorno fa ok parliamo del più 18 per cento quindi in sostanza ad ora ci troviamo questa resistenza importante la seconda ragazzi che anche la prima era importantissima perché combaciava con varie altre zone ora la mettiamo in verde perché è diventato il supporto combacia ma in delle zone importanti della precedente bull qui eravamo in bear market ok quindi zona importante anche la seconda questa qui parliamo dello 0,19 barra 0,20 resistenza psicologica e inoltre abbiamo questa resistenza qui formatosi con questo pattern qui ragazzi ok in sostanza ad oggi vedendo la candela possiamo dire andiamo a mettere i volumi possiamo dire ragazzi che ad oggi la candela è diciamo ci troviamo in una chiusura negativa però possiamo dire che i volumi come ben vediamo sono diciamo non sono ecco qui per esempio il volume della giornata di ieri è molto più profondo abbiamo molta più profondità rispetto al volume che si sta generando oggi naturalmente in chiusura possono cambiare le carte però lo scenario è questo qui se andiamo a vedere sul l'orario ragazzi andiamo a vedere cosa sta facendo io l'orario lo andiamo a vedere sempre perché naturalmente se uno è interessato anche a vedere un pochettino che cosa sta combinando nel breve l'asset per capire meglio in questa fase abbiamo dogecoin che sta effettivamente formando diciamo siamo in questo trend che naturalmente lo vediamo un trend positivo ok quindi nelle ultime ore però sta formando diciamo questo pattern qui di continuazione diciamo ecco qui ragazzi dove naturalmente anche i volumi sono abbastanza stabili però vediamo che effettivamente è insomma stiamo vacillando su questa zona di supporto ok quindi in sostanza qui potrebbero potrebbe naturalmente rompere al rialzo oppure andare a rompere questa zona di supporto magari prevedere dei insomma dei ritracciamenti tecnici e quant'altro ok poi effettivamente abbiamo anche delle zone di supporto molto importanti più in basso stiamo parlando di queste zone qui all'incirca eccoci qua prima che c'è stato diciamo tutto il il pump stiamo parlando che questo asset comunque sia quando andato a rompere la resistenza che ora diventa da supporto diciamo che ha fatto un gain del 17 barra 18 per cento su shiba inu ragazzi invece la situazione è un pochettino diversa intanto andiamo a vedere shiba inu ok qui vi ho parlato dell'integrazione dogecoin subito casino a bit star bet panda bc.game coin poker casino mega dice luci bloc wild punto io m bit casino